Inizio, 2, 1, missione, e ripetendo! In italiano, non in italiano, insomma, da sapere ci sono alcune cose. Io ne ho già parlato, ma ovviamente vado a ripetermi e vi do, diciamo, dei siti dove potete controllare lo stato delle traduzioni. Questo è Games Translator, è un sito che ovviamente adesso lo potete cercare online, lo trovate, per trovare tutte le traduzioni che hanno fatto. Ad esempio, c'è The Invincible, c'è Godan65 che sta tra l'altro anche traducendo Pacific Drive, quindi tenete d'occhio il sito, tenete d'occhio il forum, perché qui di traduzione ce ne sono veramente tante, scaricabili, installabili, tra cui quella anche per Atelier Aiza che avevo portato qualche anno fa, tradotto anche lui, così come i Fallout, quelli vecchi, che comunque regaleranno o hanno già regalato con Epic, e altri, Democracy e un sacco di altri giochi sviluppati sia da loro di questo sito che da altri gruppi esterni. Quindi di cose tradotte ce ne sono veramente tantissime e spesso non supportate ufficialmente dagli sviluppatori, quindi da qui potete trovare tantissimi giochi, veramente tanti. Potreste, guardando questa lista, trovare qualcosa che avete, vi ricordate l'avere, e non avete mai giocato, avete giocato poco per la traduzione, la trovate qui. Ma non solo perché c'è anche RPG Italia, con cui ho già collaborato altre volte, dove potete vedere che anche qui c'è la stessa The Invincible, diciamo pubblicizzata dall'altra parte, sull'altro sito ci sono un sacco di altri giochi, diversi dagli altri, insomma, ce ne sono veramente di carino, c'è Moonscar, c'è The Invincible, appunto, Wolcen, che è il Diablo-like, insomma, e Shadow of Doubt, Tyranny, tantissimi giochi, questo è un bel gioco di ruolo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, qua, diciamo, è una discussione che andrebbe un po' approfondita, però Chain Dacos, mi pare, sia stata presa in mano e portata a termine. La cosa che mi fa veramente girare le balle è che, scusate il termine, ma è che questa traduzione di questo gioco è stata pubblicizzata da multiplayer.it e gli utenti sono andati a commentare elencando tutte le cose che non erano esatte nella traduzione, dicendo, scusate, io te lo dico in modo educato, perché devi tenere conto che se fai una traduzione devi controllarla, e gli ha elencato tutta una serie di frasi decontestualizzate, quindi tradotte letterali, senza tenere conto del contesto, ovviamente lo sviluppatore, il ragazzo che stava trattando questa traduzione, ha mollato il lavoro. Ma giustamente, cioè noi pretendiamo che gli sviluppatori facciano il lavoro, se non lo fanno lo dobbiamo fare noi, lo devono fare dei volontari non pagati, e per di più gli si dà addosso, questo mi fa veramente girare, ecco, questa è una cosa. Tra l'altro, alcune donazioni, cioè, nel senso, alcune traduzioni sui siti potrebbero essere accessibili solo tramite donazione. Io vi dico, quando io ho trovato un sito che mi chiedeva la donazione per accedere, io ho sempre donato, comunque c'è una quota minima, donate, perché sono comunque ragazzi che fanno il lavoro gratuitamente. Tra l'altro, una delle traduzioni che ho scaricato è di un gioco che vi avevo portato tempo fa, ed era in inglese, era molto interessante, era un bel indie, un bel indie con un bel sistema di combattimento, una bella storia, e soprattutto una grafica comunque molto molto carina, e il gioco era Sea of Stars, eccolo qua. Quindi vedete che è in italiano. L'unica pecca di questa traduzione, diciamo, è che il gioco viene ancora tradotto, quindi, insomma, da tenere d'occhio perché ho reinserito la traduzione dopo un aggiornamento, ma non è un gioco che aggiorneranno ogni 3x2, quindi, insomma, il gioco è comunque già godibile, ve lo giocate completamente in italiano. Anche questo è una bella cosa da sapere, insomma, volevo farci una live, ma alla fine ho optato per altri giochi, però vi volevo segnalare anche questo. Un'altra cosa che vi voglio segnalare è che Keeper RL, che io ho portato una vita fa, forse 6, 7 o addirittura 8 anni fa, è uscito in 1.0. Ovviamente questo gioco non ha la traduzione, ha una grafica che si avvicina un pochino a quella di Dwarf Fortress, solo un po' più colorata, ed è meno ampio perché è basato più su un concetto alla Dungeon Keeper, quindi il fatto di costruire un dungeon per imprigionare gli eroi e cose varie, però sappiate che questo è un gioco che non costa tantissimo, è in 1.0 dalla fine di febbraio, quindi, insomma, fateci un pensiero. Questo al momento è un resoconto, un piccolo blog che volevo farvi molto veloce, informandovi sui siti di traduzione dove potete trovare tante traduzioni per i vostri giochi, ricordatevi, se vi va, se potete, di donare, e non mi hanno detto nulla loro, e ve lo dico, cioè, solo parlando nello, volevo fare la riflessione anche su quel gioco che è stato criticato alla traduzione, insomma. E volevo anche informarmi di questo titolo che è davvero molto interessante, è andata a riprescarvi il video anche se troverete sigle e audio completamente diversi da quelli che sono ora. Vi chiedo di farmi sapere qua sotto che ne pensate di questo video, insomma, e se avete qualche ulteriore navità di comunicarmela sempre nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando all'un prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao! Alla prossima e ciao! Alla prossima e ciao! Alla prossima e ciao!